Buongiorno, la mia seconda proposta al candidato sindaco Merino Lembo riguarda l'apertura di un'aula studio dotata di computer e di connessione ad internet, ad uso esclusivo degli studenti, universitari e non, con orari consoni a quelle che sono le necessità degli studenti appunto. Sarà dovere dell'amministrazione rendere nota l'esistenza dell'aula studio ed in primis mi impegnerò affinché questo avvenga. Anche perché finora non è mai esistita.